Ciao a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovo video Oggi vi mostrerò dove trovare una lastra di titanite in Dark Souls 3 Per prima cosa ci troviamo nella vetta dell'Archidrag Più c'è di preciso nel campanile maggiore Vi faccio vedere, qui ci sono i vari falò e noi siamo al campanile maggiore Ok, una volta arrivati andiamo da questo lato Qui ci saranno un po' di bestiacce che vi romperanno alquanto le scatole, alquanto le corriamo Saliamo da questo lato Qui, saliamo, occhiavi Vi ricrago Continuate a salire Se volete eliminare prima i nemici fate più tranquillità Ok, arrivati qui ci sarà un NPC fortissimo Anzi fortissimo, molto difficile da battere E qui troverete la lastra di titanite Io vi consiglio, se volete batterlo, lo battete e poi prendete la lastra di titanite Oppure tranquillamente potete prendere l'oggetto e tornarvene al falò Attraverso la lastra di titanite ricordo a tutti che potete potenziare la vostra arma a più 10 Ok ragazzi, anche questo video finisce qui Io vi saluto, ci vediamo al prossimo video Ciao a tutti ragazzi